Una vicenda terminata con il lieto fine, dopo lunghi momenti di angoscia e di apprensione che avevano caratterizzato il tardo pomeriggio di ieri. È stato infatti ritrovato assopito sotto un albero nell'agro di Trigiano il bambino di tre anni che si era allontanato dal terreno di proprietà della famiglia approfittando di un momento di distrazione della madre. Il piccolo si era quindi spostato verso le campagne limitrofe, perdendo il senso dell'orientamento senza più riuscire a tornare indietro. Immediato l'allarme è lanciato dai familiari che hanno chiesto aiuto ai carabinieri della compagnia di Trigiano prontamente recatisi sul posto per avviare le ricerche. E dopo un'ora dall'allontanamento il bimbo è stato rintracciato dai militari dell'arma, come detto sotto un albero, apparentemente in buone condizioni. Stato di salute confermato poi dai medici dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari che lo hanno visitato.